Il 4-3-3 Il 4-3-3 Il 4-3-3-3 Il 4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- il Monopoli in avanti con Mendicino, c'è un po' di spazio per Gerardi la conclusione fuori tutto pronto Artelodi col sinistro la rete punizione perfetta di Francesco Lodi tutti l'aspettavano sopra la barriera lui va sul palo del portiere con potenza precisione, Catania 1 Monopoli 0 come sape che chiude un girone d'andata davvero con numeri impressionanti tanto ancora Marotta, lanciato Marotta all'interno dell'area di rigore c'è Mané a supporto tanto la conclusione Pisseri, che riflesso di Matteo Pisseri Calapai in anticipo poi il contrasto duro, arriva Biagianti che non tira mai indietro la gamba poi Angiulli, zona centrale, Angiulli in sinistro, palla fuori che lasciò prestata a qualche punticino fu letale nella rincorsa verso il Lecce Mané ancora una volta a spazio vede Angiulli l'inserimento del numero 6 la conclusione la rete il raddoppio del Catania Federico Angiulli si poteva fare sicuramente di più per il Catania però non è poco attenzione al Monopoli il tentativo Pisseri ma cosa ha preso Pisseri tanti voti positivi in casa Catania anche i voti positivi nel Monopoli e finisce adesso col tipice fisco del signor Garofalo dice così Catania Monopoli 2 a 0 in favore dei padroni di casa le reti di Francesco Lodi e di Federico Angiulli vi abbracci vi vedo Grazie a tutti